E' così, amore mio, dici che non te ne fai anche se adesso sai che sono povero. Io non ho studiato molto, tante cose non ne so, ma mio padre dice che due mani bastano. E io di queste mani chissà cosa ne farei, a me non serve niente, tu lo sai. Invece sarà bello consumarle il giorno e poi lasciarle riposare subite. E' così, amore mio, tu che avresti chissà che, lasci tutto e prendi me, che sono povero. Io farò per il tuo bene tutto quello che potrò, ma se non ci riuscirò, ti prego, aiutami. Aiuta queste mani a non alzarsi mai su te, se un giorno la tempesta arriverà. Aiutale a creare cose grandi più di me, di quelle che nessuno toccherà. Aiutale a pregare quando l'ora di pregare arriverà. in quel punto, allora, Grazie a tutti.